a kainu la marina e la loro vera forza o la loro vera potenza benvenuti e benvenuti in questo nuovo video teoria che sarà anche in parte di approfondimento detto ciò ci teniamo a ribadire che per una questione di tempo di impegni sia lavorativi che universitari non siamo riusciti a pubblicare prima questo video e nemmeno quello di garp ma oggi che è mercoledì e mercoledì prossimo finalmente potrete vederli entrambi inoltre questi video hanno delle stesure ben più datate del presente dell'odierna giornata però il progetto del video è stato riaperto per aggiungere piccolissime info alla luce degli ultimi avvenimenti che sono comunque molto importanti e che servono all'esplicazione della parte finale del video suddetto oggi parliamo della marina se avete capito bene perché sicuramente da qui alla fine del manga dovrà avere un ruolo almeno in parte rilevante nella macro trama di one piece ovviamente cosa che già c'è stata nel pre time skip anche alcuni flashback ma che sta avvenendo un po di meno in questo post time skip almeno a livello di risultati cercheremo quindi anche di vedere un po qualche livello di forza che livello combattivo un po di battle boarding per gli amanti nel senso che però teorizzeremo i livelli determinati personaggi che potrebbero emergere eventuali future gesta soprattutto quello di acaino e quello degli ammiragli tornando a noi la marina come ben sapete la forza militare principale anche al servizio del governo mondiale ovviamente non parleremo della cp zero dei corosei eccetera ma della marina il cui compito consiste nel mantenere la pace nel fornire l'ordine cercare di imporre decisioni del governo mondiale dimmi cinque astri a prescindere dal fatto che determinati atti possono essere giusti o meno ma anche ovviamente fermando le urde di pirati vediamo velocemente una breve parte della gerarchia della marina non tutto ovviamente per il resto a cercare da voi ma solo alcune cose che potrebbero servire per il video il pan ammiraglio un ruolo che sembra essere sparito vediamo grande ammiraglio ad essi a kaino gli ammiragli i vice ammiragli contra ammiragli comodoro e capitano di vascello poi ci sono tantissimi altri ruoli fino ad arrivare all'ultimo che dovrebbe essere il ragazzo a servizio quindi un ragazzo di servizio sarebbe il mozzo ci sono anche alcuni ranghi speciali come l'ispettore generale o l'istruttore adesso però partiamo con la parte più cicciosa del video cioè parliamo di a kaino sakazuki sakazuki il grande ammiragli attualmente in carica chi ha mangiato il frutto del diavolo diciamo in italiano magma magma il tipo roglia che gli dona ovviamente la capacità come sapete di trasformare il suo corpo in magma il suo frutto gli permetteva in passato di non subire danni perché intangibile ma come sappiamo poi è stato introdotto l'aghi e quindi con l'attivazione dell'aghi tutto cambia e quindi può essere colpito l'abbiamo visto in azione diverse volte quando era ammiraglio le situazioni più clamorose furono quelle di uccidere ace a marineford e la lotta contro new gate ricordiamo che lì mostrò veramente una resistenza non da tutti una battaglia che invece non abbiamo visto ma che comunque molto importante che c'è stata narrata è quella di punk hazard contro a okiji in equilibrio per ben dieci giorni fino all'ultimo respiro una lotta estenuante di questo sconto le potenze si equivalevano però alla fine ovviamente ha vinto sakazuki metà pancazzar de vulcanica e metà e ghiacciata ovviamente l'altra metà e grazie a okiji durante la guerra di marineford l'abbiamo visto ad akaino utilizzare l'aghi dell'armatura insieme a okiji e kizaru quando fermarono il colpo di new gate che era diretto a patibolo almeno si pensa che sia così dovrebbe essere capace anche di utilizzare l'aghi della percezione però ad oggi la cosa più importante a parte sengoku che viene viene menzionato come ciò come possessore dell'aghi del re speriamo come ill'azione che almeno nella marina oltre a sengoku e noi pensiamo anche garf ci sarà anche akaino ad avere l'aghi del re lo speriamo in ill'azione staremo a vedere se sarà così o meno quindi tenendo in considerazione i duri allenamenti a cui si è sottoposto e a cui ha fatto sottoporre tutti i marine di alto livello no a kaino a okiji e così via a kaino e quindi gli altri ammiragli dovrebbero avere sicuramente un ottimo livello almeno della ghida d'armatura e della percezione ovviamente come l'azione noi pensiamo che a kaino possa aver risvegliato il suo frutto noi ad oggi abbiamo visto solamente i risvegli degli zoan e de paramisha ma seguendo gli effetti visti un po in generale possiamo illazionare il risveglio deroglia o almeno di una parte di essi che dovrebbero amplificare ciò che l'utilizzatore sa fare sia su se stesso che sull'ambiente circostante poco come è avvenuto su pancazzard ergo per noi è quel risveglio che abbiamo visto però l'ambiente circostante verrà modificato in modo permanente e quindi per esempio nel caso di akaino quella parte dell'ambiente era vulcanico incredibilmente caldo e così via facendo una piccola ricerca l'effetto no dei vulcani eccetera potrebbero andare ad immettersi nell'atmosfera con quantità di ceneri incredibili e causare l'oscurità per giorni sul raggio d'azione di quasi 500 chilometri intorno al vulcano che poi sarebbe l'area che lui trasformerà ma sono molto pericolosi molto violenti anche i flussi di energia calda i flussi piroclastici dove ci sono delle nubi molto roventi e ci sarebbe qualcosa di veramente incredibile perché potrebbe radere tutto al suolo e tutto quello che ovviamente incontrerebbe sul suo percorso tali episodi sono anche accompagnati da grandi ricadute di cenere che potrebbero comunque mettere cappa o gli avversari più deboli se inalate perché gli verrebbe a mancare il respiro questo è il tipo di risveglio che abbiamo pensato per lui magari per Aokiji questo non potrebbe avvenire per Kizaru perché lui diventa tutta luce quindi potrebbe funzionare diversamente il suo risveglio andando a vedere invece gli ammiragli della vecchia guardia che poi l'unico a essere rimasto è Kizaru lui ha frutto pica pica lo conosciamo tipo rolia gli permette l'intangibilità a meno che non si utilizzi il laghi la questione che lui può diventare luce che può attaccare i nemici con una velocità veramente fantasmagorica alla velocità della luce una potenza elevatissima distrugge veramente gli avversari in un modo incredibile a meno per quello che abbiamo visto alle Sabaudi fece Sfracelli anche i suoi avversari a parte i rally le supernove non erano ovviamente ai livelli attuali e quindi comunque non si trovò giustamente ad affrontare i livelli di livello altissimo come avversario a Marineford invece ha sfidato avversari già molto più importanti rispetto a quelli delle Sabaudi ovviamente l'abbiamo visto utilizzare una parte dell'ambizione anche lui sul patibolo anche lui contro barba bianca e così via facendo un'illazione noi speriamo che lui possegga possa possedere degli aghi abbastanza buoni anche quello della percezione visto il suo frutto con un'ampia velocità avere una percezione ottima gli permetterebbe di diventare veramente qualcosa di allucinante indovinare il risveglio di Kizaru è estremamente difficile perché si ripercuote su se stesso ma magari ne parleremo in un video prossimamente per quanto concerne gli avvenimenti recenti Kizaru si sta recando a Egghead e onestamente dobbiamo dire che vedere un suo scontro anche breve contro Luffy sarebbe veramente magnifico ma Oda potrebbe anche non farli sfidare non farli scontrare con qualche escamotaggio saremo a vedere speriamo bene chissà se accadà o meno partiamo dai nuovi ammiragli Fuggitora Iscio ha mangiato un frutto paramisce incredibile Zushi Zushi gli consente di manovolare la gravità e dei luoghi a suo piacimento veramente qualcosa di fantastico ogni volta che ricorre alla sua abilità come avete visto tutti quanti perché diciamo è uno spadaccino in qualche modo utilizza esfo della sua spada ovviamente può far cadere dei meteoriti può cambiare la gravità può immobilizzare l'avversario addirittura sotterrarlo avete visto vari esempi riuscì a farlo cozzolo riuscì a stendere trafargallò non ci riuscì con Sabo quando attivò il mera mera nomi lui sicuramente ha un ottimo livello di agri dell'armatura e l'ha dimostrato ma probabilmente anzi forse senza probabilmente il suo livello di agri della percezione è massimo essendo lui diciamo cieco perché si è privato lui stesso è della vista e riuscendo come avete visto a Dressrosa a percepire addirittura i sentimenti e le emozioni delle persone poco ci sta da fare se non dire che Fuggitora possegga un agri della percezione magnifico magnifico veramente. A Dressrosa non ha voluto far sì che venisse oscurata la verità come avvenne in passato e quindi ha dato i meriti dei fatti accaduti agli altri e quindi a Cappello di Paglia eccetera e quindi possiamo sorvolare su ciò anche se c'è stato un breve scontro con Sabo quello che è venuto invece a Reveret è un po' più diciamo da intendere come un fallimento per lui ed Aramaichi perché purtroppo per la Marina Sabo e gli altri comandanti delle rivoluzionali sono riusciti a scappare e anche a recuperare Kuma e quello è stato uno smacco per gli ammiragli anche a detta di Akaino. Ryokugyu Toro Verde Arama che avete già visto il video non l'avete visto andate a recuperare il nostro video la verità con anni d'anticipo il frutto del diavolo noi ve l'avevamo detto già le piante la natura gli alberi trasformarsi e poi si è aggiunto il fiore della scena per volare altre cose che non avevamo previsto però tutto l'utilizzo ma avevamo detto praticamente tutto quello che questo frutto poteva fare andatevi a vedere il video lui comunque è uno dei nuovi ammiragli della Marina veramente un personaggio fortissimo probabilmente possiede anche lui l'agli dell'armatura e della percezione senza nessun problema anche lui lì a Marigioa lì a Reveret ha fallito insieme a Fuggitora ovviamente purtroppo per lui però ha fallito anche Awano ufficialmente no perché Akaino gli aveva dettato determinate diciamo tra virgolette mansioni e quindi lui li ha rispettate ma ufficiosamente sì perché lui di sua iniziativa si era prefissato di prendere la testa di Luffy fallendo non solo perché inizialmente l'avevano fermato Yamato e Foderi e Momonosuke in versione Drago bensì perché sul passaggio dalla costa di Wano di Shanks Aramaki si è ritirato alzato i tacchi e se n'è andato ovviamente secondo noi umile parere degli uomini della verità Aramaki anche senza Shanks avrebbe perso perché c'erano Rufi c'era Zoro c'era Sanji c'era Kiddi c'era Lou e c'era tutta l'alleanza quindi avrebbe praticamente dovuto abbattere un esercito cosa francamente impossibile ovviamente noi speriamo ci auspichiamo che si rifarà senz'altro perché un personaggio ha una caratterizzazione opposta a quella di Fuggitora Fuggitora è calmo e pagato lui era anche abbastanza spavaldo e gli piacciono le belle donne quindi va bene così speriamo che in futuro faccia grandi cose adesso vediamo un attimino la marina in generale quindi parlando della marina in generale sappiamo che questa detta di Akainu è la marina più forte mai vista perché per fronteggiare la più grande ondata di pirati mai esistita nel manga Akainu ha fatto sì che ci fosse un reclutamento più severo facendo entrare le persone molto più forti rispetto a prima tipo per esempio due guerrieri che sono stati presi direttamente già così potenti come Aramaki e Isshio cioè Fuggitora e quindi automaticamente ci sono anche dei vice ammiragli molto forti tipo Gion tipo Shaton cioè Momusagi e Tokikage che erano anche loro in Lizza per diventare ammiragli e quindi capiamo che ci sono dei personaggi e questi sono stati menzionati anche loro nel video su Aramaki su Toro Verde che hanno un simbolo di un colore infatti una è coniglio rosa l'altro è maiale marrone e questo è importante perché fra poco vi spiegheremo la motivazione come dicevamo comunque Akainu ha fatto sì che il sistema di allenamento prevedesse che i Marine dovessero avere almeno l'acibase dell'armatura per quanto concerne i vice ammiragli c'è un'illazione da fare infatti abbiamo visto di nuovo Akainu abbiamo rivisto Kizaru abbiamo visto vari personaggi ci viene presentato Tensei Cavallonero che è il capo delle investigazioni della Marina e altre cose importanti lui questo qui stava studiando tutti i fatti avvenuti al reverie e così via ma la cosa importante è che queste colorazioni dei vari personaggi che fanno capo alla Marina fanno riferimento allo zodiaco cinese infatti abbiamo Akainu cane rosso Aokiji fagiano blu Kizaru scimmia gialla Fuggitora tigre viola Toro Verde che sarebbe Aramaki Momusaggi come vi dicevo prima coniglio rosa Shaton come vi dicevo prima maiale marrone e Kurouma appunto cavallo nero mancherebbero la capra il serpente il drago e il topo magari qualcuno c'è già e poi vedremo dopo il nome qualcun altro verrà esplicato in seguito ergo da questo capiamo che nel post time skip Oda ha voluto rafforzare in qualche modo la marina dando anche ai viceammiragli queste colorazioni questo animale rappresentativo e ciò vorrebbe dire che i viceammiragli o i marine che hanno questo tipo di caratterizzazione potrebbero essere più gagliardi e più forti rispetto a una parte precedente adesso vediamo un attimino quella che è la Marina Sword come sappiamo la Marina Sword sembra essere l'antitesi della CP0 infatti una è la spada e uno è lo scudo come già vi spiegamo bene il video teoria su Aokiji che vi vediamo a recuperare ma come è sembrato palese ancora di più nello scontro fra Drake e la gente della CP0 che dovrebbe essere Guernica sembra che la Sword sia quella almeno dal nostro punto di vista personale nel giusto poi c'è stato anche l'evento ultimo di Lucci contro sento Maro anche se lì le motivazioni sono differenti per i controlli di Serafin comunque chi sono i membri della Sword fino ad oggi conosciuti Drake, Kobe, El Meppo, Ibarri, Prince Grass e alcuni membri o Prince Gruus come preferite e alcuni membri della base della G14 che avete visto essere vicino a Haghead loro Prince Gruus e gli altri membri sono quelli che apparirono nella mini avventura di Capone ovviamente facendo un'illazione noi pensiamo chi potrebbero essere gli altri facciamo una lista di nomi in lizza quali potrebbero essere o meno Aokiji che per noi è infiltrato da Teach, Fuggitora per il suo senso del dovere, Smoker in quel caso anche Tashiji per i motivi ovvi ma magari anche Garpe Sengoku perché no o qualche nuovo viceammiraglio che ancora non conosciamo staremo a vedere ovviamente anche altri marine purché siano diciamo ben presentati ma potrebbero esserci anche quelli meno rilevanti staremo a vedere. Dicevamo poco fa poc'anzi di Kuzan Aokiji lui è un personaggio potentissimo per il sede e frutto del diavolo roia gelo gelo lo diciamo in italiano che permette di trasformare se stessi in ghiaccio l'amide circostante è una quantità infinita per poter manipolare questo ghiaccio incredibile sembra essere diventato un sottoposto di Ticci ripetiamo ufficialmente è così ufficiosamente noi crediamo che alla fine deciderà di tradirlo o almeno lo speriamo vi ricordo che fu in grado di congelare i due tsunami che creò barba bianca Newgate è molto forte comunque abbiamo detto e si evince anche dalla sfida di dieci giorni di cui abbiamo parlato prima Punk Hazard contro Akaino alla fine ha perso ma comunque il livello era quasi lo stesso perché è durato appunto tutto questo tempo e comunque crediamo come abbiamo spiegato per il risveglio del frutto di Akaino che il risveglio di Aokiji sia quasi uguale. Ovviamente anche lui utilizzò l'agri dell'armatura per fermare il colpo di Newgate perché erano tutti e tre uno affiancato all'altro all'epoca i tre ammiragli e probabilmente possiederà anche lui un ottimo agri della percezione. Quello che ci fa pensare che lui sia ancora un buono è quello che ha fatto a Pancazza risalando Cibokere da Doffi dicendogli che lui è sempre lo stesso e quindi noi continuiamo a credere che lui sia un infiltrato e anche il fatto che abbiamo scoperto di recente ma che si poteva vincere dalla tecnica Ice Capsule Tempo di non aver ucciso Ors di Saulo secondo noi è un altro fatto molto importante perché Aokiji è vicino alla verità nel senso non che la conosce ma nel senso che lui protegge la verità del mondo in qualche modo anche lui ha partecipato a far andare avanti sia Saulo che ovviamente Nico Roby. Una piccola menzione anche per Smoker e Sentomaru Smoker venne mostrato dal G5 a Pancazza nonostante il suo ruolo di vice ammiraglio non mostrò chissà quale forza fuori dal comune speriamo di rivederlo presto magari perché no al G14 a El Ghed chissà e ovviamente con un nuovo power up magari il risveglio del frutto Sentomaru purtroppo invece come dicevamo prima l'abbiamo rivisto a El Ghed purtroppo per una questione narrativa e anche per aver messo in luce la forza straripante di Lucci è dovuto soccombere anche per la questione ovviamente del controllo della cabina di controllo per quanto concerne il comando dei Seraphine vedremo se in futuro verrà riproposto anche lui con qualche altro piccolo power up e magari perché no nella Sword staremo a vedere vi ricordo ovviamente che lo vedremo già le sabbaudi post time skip quando i Mugiwara stavano per partire. Adesso parliamo di Kobe il suo destino è legato metaforicamente a quello di Rufi di Anizio Manga Anizio era un pirata dal video un mozzo poi c'è questo legame speciale con Rufi l'incontro del destino nella rivalità ma soprattutto l'ammirazione per il nostro capitano il nostro Mugiwara e il nostro Rufi e poi come sappiamo Kobe è diventato un Marine i due per noi sono destinati a sfidarsi come dei veri uomini una sfida che sarà molto più simbolica dando maggiore rilevanza ai sogni piuttosto che combattiva ma questo non significa che Kobe non diverrà veramente formidabile ancora più forte di come lo vediamo oggi sicuramente sarà pronto per questo scontro. Ricordiamoci che Kobe comunque è un capitano di vascello in questo momento è anche un membro della Sword inizialmente non era veramente forte però è stato allenato da Garp e poi dopo Marineford ha risvegliato la chieda della percezione e diventato famoso dopo il stato temporale viene definito anche lui l'eroe come veniva definito Garp anche un individuo del calibro di Kiros se ne accorse c'è stato l'incidente di Rocky Port per quanto concerne la questione dei cuori di loro e cittadini c'è stato un altro incidente di cui ci fa sapere Tic con la questione di Ochoku no? Wang Zi che è permesso a Barbania di vendere il possesso dell'isola che era oltre a D-Rox e poi alla fine Kobe è stato rapito appunto da Tic per questioni ancora ignote. Ovviamente il sogno di tutti noi crediamo sia quello di vedere Kobe come nuovo Garp alla fine del manga che si sfida con Rufi i scontri veramente incredibili senza che Rufi ovviamente lo umili quindi speriamo che diventi abbastanza forte da non essere umiliato da Rufi che sembra veramente essere fuori portata veramente a livello stratosferico il nostro capitano. Breve menzione anche per Garp Sengoku e Kong Kong sembra essere sparito come abbiamo detto prima oltre al suo loro burocratico non sappiamo cosa farà in futuro e se mai ci dovesse essere qualche flashback. Se da un lato Garp potrebbe muoversi e si è mosso come abbiamo visto appunto per il recupero di Kobe e vedremo il rapporto fra lui a Okiji e come si svilupperà la situazione Sengoku per adesso sembra essere messo in stand by. Magari entrambi potrebbero dare il loro supporto significativo nonostante l'età anche se come abbiamo detto Garp sembrerebbe essere intenzionato a fare qualcosa di incredibile per recuperare Kobe ma questo lo diremo in un altro video. Ovviamente ci sono anche in gioco le armi di Vegap anche le abbiamo viste Serafin veramente dei personaggi incredibili ne abbiamo visti quattro per adesso. Saremo a vedere come si svilupperà la situazione di questi quattro Serafin quello di Boa, di Miwok, di Gimbe e di Orso Bartolomeu e soprattutto se essi verranno utilizzati la CP0 se poi riprenderà sotto il suo dominio almeno in parte la marina la gerarchia la sappiamo già il fatto del Goro 6, Vegap anche poi chi ha il chip e così via perché sento Mario adesso è stato messo KO. Saremo a vedere chi sfrutterà questa arma comunque dovremmo considerarla alla stregua comunque di marina e governo come tipo di utilizzo. Saremo a vedere se come vi dicevamo in tempi non sospetti per la corrente di pensiero del cyberpunk dovesse esserci mai una crescita di smisura della tecnologia che potrebbe portare a un fuori controllo del tutto di questi Serafin oppure se l'obbedienza rimarrà sempre così intatta. Adesso facciamo un recap velocissimo su cosa è successo e cosa potrebbe succedere, cosa succederà. Allora abbiamo detto che il fuggitore a Dressrosa non è riuscito, non ha voluto o se voi preferite non ha voluto risolvere problemi anche per una situazione che era scomoda e quindi a differenza della basta il merito di ciò che si è risolto anziché essere stato insabbiato è stato dato a Rufi e lo inoltre non li ha catturati vi ricorderete la questione dei dati quindi è stata una brutta figura in modo ufficiale ma in modo ufficioso è stata una figura davvero uomo. Invece a reverie lui e Aramaki hanno fatto una brutta figura lì hanno fallito perché non sono riusciti a fermare a Savo, Lindbergh, Morle e Kalasu che hanno oltre aver dichiarato guerra tra chi c'è l'estero e si hanno recuperato lo sobattolo e mi sono scappati. Inoltre Aramaki si è recato a Uano su richiesta da Kainu ma anziché seguire i suoi dettami aveva ben pensato di andare a catturare Rufi e poi ha fatto una brutta figura come abbiamo detto perché c'è stato l'intervento di Shang se la sua ciurma e quindi si è dovuto ritirare almeno da questo punto di vista. A Onigashima abbiamo visto la CP0 combattere con la sword vi ricordate Drake è stato messo K.O. da Gernika poi Kobe è stato rapito per mano di Titch e questo è un altro smacco perché un pirata che rapisce un marino è uno smacco per la marina anche se lì bisognerà capire un attimino la questione come dicevamo poco anzi di Wang Zi. Infine Akainu ha detto di non poter fare intervenire nessuno mentre lo sta combattendo con Titch e alla fine ancora Egghead. Luci ha messo K.O. Luci che è una genera CP0 ha messo K.O. sento Mario che è un marine ovviamente quello però è per il controllo dei serafin. Questo abbiamo racchiuso rapidissimamente quello che è accaduto vediamo cosa potrebbe succedere in futuro. Sarà importante anche mettere in azione adesso Aramaki e Fuggitora potrebbero muoversi in diverse direzioni del mondo anche perché abbiamo Shanks a piede libero abbiamo Kid che sta andando a Elba che però sta ancora battagliando con Titch e quindi dobbiamo vedere ma soprattutto la Cross Guild senza dimenticare magari quello che dovrebbe essere il grande incidente della flotta di Rufi. Poi noi crediamo che provando a rispondere alla domanda che ci siamo posti all'inizio sulla forza di Akainu cosa succederà quindi partiamo da Kizaru lui si sta dirigendo a Egghead ed ha chiesto rinforzi fa venire più navi possibili perché vuole fermare Rufi. Vediamo come ci recupera la situazione sarebbe molto bello come avevo detto prima assisterà uno scontro alla luce degli ultimi avvenimenti però non ci darò saperlo perché sta per uscire un guerriero misterioso che andrà ad aiutare ovviamente Vega. Anche inoltre diciamo lì vicino a Egghead nel G14 ci sono molti membri della Sword che potrebbero a un certo punto scontrassi con la CP0 creare il caos e far sì che Rufi possa scappare senza battagliare. Garp si sta muovendo per andare a recuperare Kobe. Ergo lo scontro con Teach sembra quasi inevitabile però bisognerà capire se Teach stia ancora combattendo contro l'O se sia già cinose oppure no e quindi non è detto che si debbano scontrare per forza però staremo a vedere perché comunque questa sembra essere la direzione. Vedremo anche cosa deciderà di fare El Meppo perché Garp ha chiamato El Meppo e Ibarri magari El Meppo potrebbe chiedere a Garp di andare a prendere qualche sera fino a Egghead e lì potrebbe esserci l'incontro fra nonne e nipote. La Sword si dovrebbe comunque spostare abbiamo detto dal G14 a Egghead. Vedremo cosa succederà nella battaglia. Aokiji nel frattempo potrebbe tradire Teach ed aiutare Garp, El Meppo, Kobe, eccetera eccetera per appunto salvare quest'ultimo e lì sarà una cosa veramente molto importante per capire se alla fine Aokiji è veramente o meno un infiltrato. Se nella fantasmagoria, nella fantastica, fantomatica, guerra finale si mostrerà come noi speriamo sui livelli altissimi, se lui dovesse dimostrarsi lo sfidante, l'avversario di Rufi, allora potremmo sicuramente inserirlo sui livelli non dissimili da quelli degli imperatori, degli Yonko. Ovviamente tutto questo discorso sarà valido e sostenibile nel caso in cui dovesse sfidare appunto Rufi. Se invece il suo avversario dovesse essere un altro, siccome alcuni sperano non accada mai, alcuni sperano non accada mai, non io. Per me è indifferente, però alcuni lo sperano. Dovesse sfidare Sabo allora lì dovremmo fare differentemente i conti. Ovviamente in quel potetico frangente, in quel frangente che è comunque un'illazione, per noi tutti gli ammiragli dimostreranno una forza sovrumana, tutte le loro abilità, tutti i loro frutti, tutti i loro Aki, perché saranno chiamati all'ultima grande battaglia. Se siete arrivati fino a qua, mettete hashtag Akainu Yonko o hashtag Marina o hashtag quello che volete. Ovviamente ditemi voi. Cosa pensate che succederà a fine manga? Cosa farà la Marina? Quanto sono forti gli ammiragli? Quanto è forte Akainu? Cosa vi aspettate da Okiji? Garp ce la farà salvare Copi? Qualcuno aiuterà Garp? Ditecelo nei commenti, con un commento, con un like, con una verità, con una bugia, con una menzogna, anche da sfogliatori. Sfogliatori di sfogliatello, sfogliatori di quello che volete. Sono aperti gli abbonamenti, ci sono i super grazie, mettete like, iscrivetevi, abbonatevi, fate quello che volete. Alla prossima. Qui spero, spero veramente ci sia solo la verità.